Il MUSP di Via Ficara, che ospita il liceo musicale, ha qualche problematica e per questo stamattina nuovo sopralluogo dei tecnici della provincia. Da precisare che la struttura provvisoria di proprietà comunale, dunque anche il discorso impianti, le segnalazioni parlano di termosifoni rotti, infiltrazioni varie e problemi di varia natura. La provincia ovviamente sta cercando delle soluzioni per ovviare. Bisogna altrettanto dire però, per onestà intellettuale, che la situazione delle scuole provinciali, in un panorama comunale che vede purtroppo ancora enormi difficoltà, è piuttosto rosa, perché fatta eccezione per il liceo musicale, ancora nei MUSP, per le altre scuole non ci sono problemi. In attesa di recuperare la serie del liceo musicale in centro storico, vicino all'ex biblioteca e convitto, la struttura che doveva essere provvisora è chiaro che dopo 15 anni dalla sua costruzione può presentare sempre più problematiche. È nel corso delle cose, per questo si chiare da anni un'accelerazione del discorso centro storico. Quella zona però, Via Ficara, ha molti problemi anche dal punto di vista della viabilità. La preside Serenella Ottaviano più volte aveva denunciato anche pubblicamente la situazione di difficoltà della scuola. Il liceo è un'autentica eccellenza per il territorio, che ospita anche studenti che arrivano all'Aquila da fuori città per formarsi con docenti di rango internazionale. Chiaramente quella di oggi è una situazione tampone, che si spera però di svoltare a breve, anche se i tempi di restituzione dell'edificio in centro non saranno brevissimi purtroppo.